salve ragazzi oggi vi faccio vedere come pulire le parti opache questo è un cavalletto laterale di uno scooter questo è il sidon incominciamo ad applicare il sidon su tutto il cavalletto che era abbastanza opaco lasciamo agire leggermente dopo di chiederemo un altro pezzo di carta asciutto e incominciamo questo finaccio vedo la differenza spero che risalti guardate la differenza da qui come riflette la luce e qui sopra guardate centrale che era uguale a lui come opaco in questo trattamento con il sidon testa